Nuovi fondi in arrivo per il Comune di Malo in questi giorni. L'amministrazione comunale infatti ha ricevuto l'ok per l'assegnazione di 456 mila Euro provenienti dal PNRR. La richiesta è stata avanzata per realizzare importanti interventi di appodernamento dell'asilo nido comunale di Via Dombrizzi. Nel lavoro è previsto un importante ampliamento. Soddisfazione al palazzo comunale una volta presa alla notizia con il primo cittadino Marsetti impegnato in prima persona a seguire l'iter burocratico. Dopo gli oltre 150 mila Euro ricevuti per accrescere la digitalizzazione dei servizi comunali, spiega Marsetti, questo nuovo contributo ci permette di avviare il progetto esecutivo e procedere ai lavori di ammodernamento dell'asilo. Questo contributo rientra negli oltre 12 milioni di Euro per progetti che abbiamo presentato per ottenere finanziamenti, confermando come la nostra azione vada nella direzione di accrescere e ammodernare il patrimonio edilizio cittadino. Il progetto nasce dall'esigenza di risolvere alcune criticità dimensionali dell'attuale struttura per rendere gli spazi più confortevoli e idonei alle attività che si svolgono, migliorando i livelli di sicurezza, operabilità, agio, gradevolezza dell'edificio a tutto vantaggio dei piccoli utenti, delle loro famiglie, maestre e personali di servizio. L'intervento finanziato con i fondi PNRR permette di risolvere alcune criticità, quali esigui spazi del centro cottura, spogliatoi, servizi igienici, personale, sezione lattanti attualmente sottodimensionata, la creazione di un magazzino ed uno spazio esterno coperto per gli stessi lattanti.